Un nuovo manto in erba sintetica, nuove panchine, nuove porte dopo una serie di interventi strutturali inaugurato a Esernia, l'antistadio Lancellotta al taglio del nastro, presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi. Al di là del fatto che oggi si inauguri qualcosa, ma c'è una progettualità in movimento che per i cittadini di Esernia invece lascia ben sperare. Quello dell'antistadio è il primo progetto PNRR completamente avviato e portato a termine dall'amministrazione comunale. Credo che stiamo facendo di tutto per fare di Esernia una delle cittadine del centro-sud con più strutture sportive. Presente anche l'onorevole Elisabetta Lancellotta, visibilmente emozionata per l'intitolazione dell'antistadio al padre che tanto ha fatto per lo sport isernino. L'emozione è grande, essere qui con il ministro per lo sport e per le politiche giovanili nell'impianto dedicato che porta il nome di mio padre, per me è un'emozione difficile da descrivere.